I cari amici oggi vogliamo fare una memoria importante della vita del segretariato missione del centro missione anche dell'attività dell'associazione missionaria solidarietà sviluppo accanto a me c'è sorella Nenne Lanzetta che è partita proprio nei primi momenti della vita del segretariato allora quanti anni fa? Come mai sei entrata in questo giro? Circa 48 anni fa, 49 anni fa, come sono entrata in questo giro? Per questo mio desiderio di vivere, di essere missione, di vivere la missione io dentro da ragazzina ho sempre avuto questa cosa qui di andare dai disgraziati, dai più poveretti perché li sentivo non disgraziati, miei fratelli, io stavo molto meglio con loro che a casa mia secondo punto, perché sento adesso alla mia età, 74 anni, che la chiesa è chiesa missionaria solo è chiesa perché è missionaria, altrimenti non avrebbe ragione d'essere Cristo, Dio, manda suo figlio, Dio missionario manda Cristo manda, prima dicono gli apostoli, no, Maria Maddalena manda agli apostoli Dio è questo, Dio manda, Dio esce dalle sue tombe, dal suo silenzio, dal suo mistero per farsi incontrare, Gesù si fa incontrare Ma l'esperienza di questi quasi 50 anni, quello che hai vissuto, questo percorso di contatto con la realtà di Capoverde ma con la realtà missionaria della chiesa Qual è in sintesi quello che tu puoi comunicare a tutti i nostri amici? Una parola Io dico solo questo, che dopo aver visto Capoverde, aver sofferto Capoverde in Capoverde con la gente di Capoverde, io ho scoperto una cosa che il nostro mondo fittizio, il nostro mondo d'essere oggi, in questo mondo europeo che non è, non è, non esiste, esiste il mondo di chi vuole essere fratello, vuole essere sorella, vuole essere amico, vuole essere compagno di ogni uomo della terra non di un europeo e non di un africano e non di un asiatico, ma fratello di ogni uomo Ecco, una cosa che mi ha spinto e io sentivo il rifiuto delle nostre banalità, delle nostre cose fittizie che non servono a niente, ecco, è proprio questo, il senso profondo è io sono sorella di una qualsiasi persona, quando incontro la mia nomade Gloria io desidero essere sorella Grazie sorella Nenne, questo è un messaggio che ha colpito me, penso colpisce tutti noi che l'abbiamo ascoltato e allora con questa forza andiamo avanti con molta fiducia, sempre Grazie a tutti